Signori, stiamo per provare insieme The Last Case of Benedict Fox Gioco uscito qualche giorno fa, il 27 aprile 2023 Per la precisione, lo stiamo provando quest'oggi Presente nel catalogo Game Pass Mi intrigava molto per l'aspetto estetico del gioco Che effettivamente mi sembrava parecchio avvincente E dimostra di esserlo anche da questa semplice schermata introduttiva After the end of the Great War, it came to light that atrocities were being committed Not only on the battlefields, but also beyond them In secret workrooms of the first circle To try and stop the vile endeavor, Orto Iredei came to being Its purpose was to restrict unauthorized research Experimentation and exploration L'intro-narrativa, cioè la tematica di fondo Mi sa di abbastanza già visto, no? Uno che è un dissidente Che non vuole farsi controllare, però James Marvin Floyd Lui ha questi poteri che dobbiamo approfondire Esatto, lui che è Benedict Ha questa sorta di demone che ci fa anche da rampino E suppongo anche da aiuto, da ausilio in altre circostanze Vedete che anche la fusione dei vari colori mi sembra veramente molto bella Pagina strappata Sono delle rune che ricordano la scrittura degli antichi Potrebbe essere un fermento Di ciò che sto cercando Il rituale è dimenticato Vabbè, prendiamolo intanto, via Il primo di molti Alcuni oggetti potrebbero nascondere ulteriori segreti Ruota l'oggetto con L per ispezionare in maniera più approfondita E vabbè, non è che fosse una cosa nuovissima Prendi E questi punti che otteniamo Questi 105 punti che ci sono in alto a destra Questo credo che sia semplicemente la selezione della musica Qui nella nostra hub Perché questo sarà una sorta di quartiere generale In cui possiamo ascoltare anche la musica Deve essere la donna di cui era innamorato mio padre Attenzione perché qua c'è qualcosa Ti mando una mia foto Ma se non ti piace di certo non mi importa Perché sto maiuscolo a capoverso Vabbè Chiave con simbolo utilizzato Quindi li utilizza automaticamente È inutile che stiamo lì a vedere Che cosa si possa usare a mo' di avventura grafica O di enigmi di sorta Lo fa in automatico Qui per esempio mi cammina in automatico E mi va verso la scena E quello sarebbe il padre? No Senza che il rispia Benedetto Il cadavolo che tu chiamati tuo padre Il peggio e il peggio Non si non è l'attra La scena è così dante E la così scena è così fierce Che io non posso ne prendere C'è stato un alterco ma senza segni di colluttazione Porto segreto La traduzione dei sottotitoli soprattutto per quanto riguarda le onomatopee lascia molto a desiderare Speravo di salire prima di scendere però in realtà ho seguito l'istinto e sono andato prima sotto Va bene Questo cosa In realtà si sale Ok E' bella anche la sovrapposizione dei elementi sullo sfondo e in primo piano con il relativo sfocamento del personaggio Ci sta eh Ragazzi queste cose non sono neanche semplicissimissime da fare Sono artisticamente secondo me notevoli Ok qui mi sa tantissimo di Another World va bene Una ripugnante e disgustosa massa di inchiostro concentrato Ragrumata e trasformata in un abominio dalle semianze umane Il catar Perry Top Allora glielo rifaccio ragazzi scusate ora che so che c'è il Perry vai Madò Vabbè allora ragazzi definitivo Senza paura è il cazzo duro ma si La magia Ah ma c'è anche la direzione da dare a sto Perry maledetto vai Eh no stavolta l'ho parata e basta La schivata Questa è la parata e basta La schivata è ottima quando lui sta per attaccare con le mani Uh Quadro del ratto dell'organizzazione L'amplificatore Eh qua abbiamo un cat di nazi Che cosa ci fa un dispositivo che amplifica la nostra connessione Nelle mani del ratto dell'organizzazione I custodi e le chiavi dovranno morire se desideri ritornare a casa Benedict Allora Tranquilla che muoiono eh Non fatala libera la donna misteriosa Abbiamo aperto una sorta di squarcio di Bioshock infinitiana memoria Ecco fissa inchiostro Vediamo fissa inchiostro Ho fissato l'inchiostro non è stato per nulla spettacolare Teletrasportati Ah ok ci fa teletrasportare all'ingresso del limbo oppure all'atrio Porta Kogai E Cristo Un ricordo imbarazzante Che viene analizzato più e più volte Wow Ha a che fare con i ricordi suoi o di suo padre? Spongo se no di suo padre eh Quella sembra essere la sua amata Quella della foto Che se ne va Lasciandolo così Con le mani in mano e lui inerme Che non prova neanche a reagire Oppure ci stiamo facendo i romanzi In realtà semplicemente ha avuto un episodio di impotenza selettiva Lei ci è rimasta male Ha detto vabbè Ci vediamo domani Che poi che ti dica Che mai è capitato Dicono tutti così Vabbè Ti toccherà morire così Bene Abbiamo fatto aprire lo squarcio Suppongo Rifornisci oggetti Teletrasportati Fissiamo l'inchiostro Rifornisci oggetti pure Simbolo scolpito Simbolo scolpito Ricordo il simbolo su una delle chiavi Ma è più complesso Ancora non so cosa farne Eh Interagisci Vediamo Interagisci in realtà Però non mi fa interagire Perché non ho nulla con cui interagirci Probabilmente Strano che mi richieda due try Il primo Vergogna per raid Figa però dai Dammi il tempo di fare lo scattino C'è Grazie a tutti L'ho parato? No Non si può parare con l'attacco mi sa Bene Cazzo Ok sparando tra l'altro Si ferma per un po' il tempo Oddio è improprio dire che si ferma il tempo Però Si blocca per un attimo Dai La zica Bravo Ma con che caparbia? Praticamente ragazzi Fatto tutto col cortellino Hai sconfitto il bibliotecario Beh me lo ricordavo diverso Però attenzione studio del padre Mappa giornata Fantastico Questa è una sorta di orto Botanico Eh vedete anche la telecamera Rivivi il ricordo Si C'è sempre questo rapporto Struggente tra Quello che sembra essere suo padre E la sua amata Che Gli sfugge La fa disperare Non si capisce Non si capisce perché non si deve capire E' come se fosse un amore tormentato Interagisci Vediamo Guarda la combinazione E adesso la sappiamo Vedete Discutono Di cazzate Sembra Sembra una coppia tormentata Attenzione Che sia suo fratello Un amico Mi conosce meglio di me stesso Quindi Che cosa dovevi portargli Ah L'amplificatore Ce l'ho proprio qui Bene Allora Bellini gli oggettini stile Alchemico 800 Potenzia la quantità Aumenta la quantità di utilizzi per discesa Aumenta la qualità di guarigione Va bene Cassetto Bene Ok Questa era messa così Questa era messo così E questa era messo così Apri Bella memoria Ragazzi Dai Obiettivamente Dovete ragionare sul fatto che abbia una bellissima memoria L'amata anche qui Vedete In quel dipinto E qui la analizziamo tecnicamente Tecnicamente ci sono tante storture Secondo me Storture su cui si può passare sopra Perché esteticamente Artisticamente È veramente un gran lavoro Vedete quel quadro dell'amata Che è molto Sgranato Se noi andiamo a migliorare La modalità grafica E vedete che mi si ringrana Cioè nella modalità prestazioni Un gioco del genere Mi va a sgranare così tanto Le texture in secondo piano Che mi va a perdere un sacco Anche a livello artistico No Dai Siamo su Xbox Series X Su PC È un gioco che girerebbe Suppongo tranquillamente Anche su Xbox One Per non dire anche su Switch O no Vabbè Vabbè Basta E perché devo fare il recensore sempre Questo è Ce l'ho nell'indole proprio Non ce la faccio Pijamini Oh Ci sono delle discrepanze In questi file Che ho rubato Non dicono assolutamente nulla Sul bambino Che abbiano disobbedito All'ordo ira dei E ne abbiano avuto Uno illegalmente Ricarichiamoci una va Allora abbiamo detto Che sto coso Va bene Va bene Va bene Stavolta è andato a buon fine Fissi inchiostro Rifornisci oggetti E bofanculo Bene Non era ragazzi Niente affatto temibile Era semplicemente A stare attenti A premere R Al momento giusto Che per carità ci può stare In realtà Solo siccome non me l'aveva spiegato Nel tutorial Allora Attenzione Forse abbiamo finalmente qualcosa Che possa spiegare L'arcano degli specchi Un enigma Signori Dai che mi piacciono Fammi fare un enigma Dai Ok D1 Spunta il nemico Adesso è là Perfetto E che prima sai che Non avevo fatto caso Sapete che non avevo fatto caso Benissimo Da dove spuntasse Vabbè Adesso siamo in god mode Va bene Va bene Ragazzi Va bene Ah Ma lo statening C'è lo stesso Ragazzi Vedete Guardate A un certo punto Se mi metto a camminare Tac Eccola qui E la seconda Estrazione Andiamo a farla Bene Adesso mi spunta sopra La strunz E facciamo i conti Con gli altri nemici Va bene Però noi ci mettiamo sotto E li affrontiamo qua sotto No bestia Bestia stronzo C'è capito un cazzo E con relativa calma Adesso possiamo salire lì sopra E no Perché c'è ancora mezzo strunz Ah beh dai L'abbiamo preso? L'abbiamo preso Ok Via Dai che la terza è quella buona La regola delle tre cose Nei videogiochi Eh 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 Ragazzi L'expertise L'expertise La regola delle tre cose Hai salvato la tatuatrice Ah era la tatuatrice La tatuatrice questa Quella che adesso Mi libera l'inchiostro E quindi mi fa Cedra degli upgrade Tesoro viene qui Oh Incontriamoci di sotto Ok Potenziami Tatuatrice Me la fai un Una scritta Tipo che ne so Lo scudetto del Napoli Il terzo scudetto del Napoli Me lo tatui Facciamo questo Ne abbiamo 140 Ok E beh dai Non fa così male Il tatuaggio Non fatti di tanti E che sarà mai Mamma mia Possiamo fare anche questo Per la presa del compagno La barriera del compagno Ah è un potenziamento Tentacolo secondario Cioè una cosa un po' secondaria Infatti Se no possiamo fare Si fa tatuare tutte le Queste è una cosa figa Secondo me Via Lo voglio vedere soffrire di nuovo Facciamoli tutti In ordine più o meno Questo volendo Si può fare Ma credo Che questo si possa fare Soltanto dopo aver sbloccato Quello di sopra Vediamo se ho ragione Ho assolutamente ragione Direi Come prima impressione Queste nuove prime impressioni Che trovate anche su youtube Su play rins i2 Direi che come prima impressione Potremmo stabilire una sorta di Promosso bocciato Nel senso di Ok lo promuovo per Proseguire nel gioco Oppure bocciato Lo droppo qui In questo caso direi promosso Pro Parte estetica Visiva Artistica Veramente molto d'impatto Che però mi cozza Con un contro Abbastanza importante Che è l'ottimizzazione Della parte tecnica Stuttering a non finire Anche in modalità prestazioni Differenza tra modalità prestazione E modalità qualità Che si concretizza Soltanto In una serie di texture Non ben definite Nella modalità prestazioni Ma che non restituiscono All'esperienza ludica complessiva La mancanza di stuttering E quell'aspetto polished Che ci si aspetterebbe Da una modalità prestazioni Quando vai a sacrificare la qualità Più che altro ingenua La realizzazione di Movimenti Attacchi Meglio i perri Le parate Però Migliora moltissimo Poi però Con i potenziamenti Del nostro demone Che ci garantisce Quella sorta di appiglio Che ci permette appunto Di fare quella sorta Di doppio salto Che non è un vero e proprio Doppio salto Ma che ci permette Di avere più Performance migliori Nel salto Ecco La storia Non sembra Mega originalissima Sembra piuttosto La classica introduzione A una storia Densa di mistero Con quest'alone Di mistero dovuto Proprio dalla presenza Del padre Che è una presenza Assenza Perché il padre in realtà È morto È cadavere Però Il suo spirito Aleggia nell'aria E vive Nei ricordi Di Benedict Fox Carini gli inserimenti Gli innesti Di personaggi Che in realtà Sono personaggi chiave Per il prosieguo del gioco Per il progresso del personaggio Come appunto Il responsabile del negozio È la fan fatale La tatuatrice Che ci permettono Rispettivamente Uno Di acquistare Dei potenziamenti Per degli oggetti Come per esempio La salute Le fiaschette miracolose E bombe fumogene Ed altro E l'altra invece Di tatuarci Sul braccio Quello che in realtà Può corrispondere È un progressivo È un piuttosto lineare Albero delle abilità Con catenato Che è più a catena Che ad albero Nel complesso Mi è piaciuta l'esplorazione Mi è piaciuto anche Il modo in cui Effettivamente Per quanto sia Un metroidvania Di stampo Piuttosto classico Lascia spazio A un senso Dell'orientamento maggiore Perché è più conchiuso Come aree da esplorare Anche in quanto A esplorazione Di extra E collezionabili Tra promosso e bocciato Scelgo assolutamente Anzi Tra promosso e droppato Scelgo assolutamente Promosso Grazie per essere stati con me Questa sera O buongiorno Se mi state vedendo su YouTube O anche buonanotte Oppure buonasera Buon pomeriggio Insomma fate voi Ciao